Abbiamo incontrato presso la sede della Universal di Milano Federico Albanese. Il compositore, pianista e produttore milanese che vive ormai da dieci anni a Berlino ci ha parlato nell'occasione del suo nuovo album Before and Now Seems Infinite, un lavoro incentrato sulla memoria o che comunque parte da un discorso attorno ai ricordi e a come li percepiamo. Quello che mi interessava esplorare non era soltanto la memoria in sé, per cui ricordi di svariato tipo, che può essere un ricordo di un evento, di un episodio, piuttosto che di un luogo, di una persona, ma anche capire il motivo per cui la nostra mente decide di ricordarsi certe cose in un modo piuttosto che in un altro. Per cui in realtà ogni ricordo ha infinite sfaccettature, per cui visto poi da angolature diverse risulta diverso nella nostra mente, paradossalmente. Quindi mi interessava esplorare il modo in cui noi percepiamo le nostre memorie e il perché le ricordiamo in un certo modo piuttosto che in un altro. L'album è accompagnato da alcune polaroid provenienti dalla collezione personale di Federico che sono associate ai vari brani. La fotografia è stata una parte centrale del lavoro di ricerca, perché ovviamente la foto in sé è una memoria. Quindi inizialmente sono andato a ripescare vecchie fotografie magari scattate da mio padre, piuttosto che da mia mamma, comunque dalla mia famiglia in passato quando ero bambino, cercare di riaffroiare dei ricordi di quel tempo lì, come per esempio la copertina del disco, è una fotografia scattata da mio papà, di cui io di quel momento non ho un ricordo vivido ovviamente, essendo 35 anni fa. Però è rimasta una sensazione, mi ricordo che era una fotografia scattata d'estate, mi pare, sulla costa Ligure in Italia. La fotografia è stata una fotografia scattata d'estate, mi pare, sulla costa Ligure in Italia. Alcune foto le ho poi scattate io in luoghi della mia memoria in cui sono tornato per cercare di respirare la stessa, di far riaffiorare certe cose e poi magari ho scattato anche una fotografia e quella magari è entrata anche quella a far parte come un elemento descrittivo che poi ho utilizzato per la composizione della musica. All'interno di Before and Now Sims Infinite sono presenti poi due tracce in cui sono ospiti Marika Hackman e Ghost Poet. C'erano questi due pezzi che giravano e in qualche modo erano irrisolti dal punto di vista prettamente compositivo musicale. Provavo svariati arrangiamenti, specialmente Summerside, era un pezzo difficile per me da considerare finito, non so come spiegarti, mi mancava qualcosa, tutte e due. E quindi io ho sempre desiderato, io nasco diciamo come suonato in band nella mia vita, ho fatto tanti progetti, ho scritto canzoni, per cui il mio background viene se vuoi più dal mondo del songwriting che del mondo classico, della composizione classica. Per cui è sempre stato il mio sogno del cassetto incorporare la voce, tornare a scrivere canzoni, e neanche riuscire a incorporarle nel mondo della mia musica che faccio adesso. E quindi ho pensato che questi due brani forse potevano essere quelli giusti per provare questa cosa. Sia Ghost Poet che Marika Hackman sono due artisti che io stimo da anni. Diciamo che loro due hanno portato questi brani a un livello che io mi sarei mai aspettato. Federico Albanese è attualmente impegnato in un tour europeo che il 22 aprile 2022 farà tappa all'auditorium San Fedele di Milano, in attesa di nuove date che presto si aggiungeranno al calendario e in attesa di nuovi progetti. Ci sono tante cose in ballo, certo, non si smette mai. Quindi spero di riuscire a girare il più possibile, perché per me è una delle cose più gratificanti e più vere che è rimasto anche in questo mondo digitale, di streaming e non streaming, eccetera, eccetera. Per cui per me il contatto col pubblico è fondamentale. E poi sì, comunque ci saranno altri progetti, adesso posso parlare. Grazie a tutti.